Renzo Di Francesco cerca la sua salvatrice. Il pensionato settantenne di Marghera, che investito e travolto da un furgone pirata, mentre è in sera la sua bicicletta, una settimana fa circa, poco prima dell'ora di pranzo, in questa stradina stretta, a doppio senso di marce, località Villabona, non si rassegna. Cerca il nome di chi gli ha teso la mano e che lo ha salvato, dice. Nei momenti della concitazione del soccorso, ancora sotto shock, non aveva chiesto chi fosse quella persona. Una donna, rivela, che aveva raccolto il suo ripetuto grido d'aiuto dal fossato dove era carambolato dopo lo scontro. Vorrebbe incontrarla, dice ancora commosso. La volevo ringraziare e cercare magari tramite voi di rintracciarla per ringraziarla personalmente. Dopo il sinistro, fortunatamente il settantenne non ha riportato gravi conseguenze. Resta però il fatto, la stradina dove è avvenuto l'incidente è davvero pericolosa, conferma questa ragazzina che conosce bene la zona. A volte ci sono macchine che corrono molto velocemente. Inoltre qui è pericoloso perché la visibilità è poca. Io vivo qui vicino e passo spesso in bicicletta. Ci vuole maggiore sicurezza, dovrebbero mettere comunque dei disfasori, magari per limitare la velocità, secondo lei? Questo non lo so, non so dirle. Magari più un po' di buonsenso dalla gente. Perché è moralmente legittimo tutelare i diritti inviolabili della persona, come il diritto all'integrità fisica, ricompreso tra i diritti inviolabili dell'uomo, così come sancito dall'articolo 2 della nostra Costituzione. Lei, Renzo, si sente miracolato un po' dopo questo episodio? Ho pregato tanto mia madre perché per poco non ho battuto la testa su un tombino che c'è là perché se batto la testa... Ciao! Ciao Renzo!